Tutto inizia da un'idea. Selezionare l'eccellenza e condividerla a prezzi accessibili. Ma è quando questa missione prende vita che inizia la storia. Una storia che raccontiamo da 60 anni, ogni giorno. Di come da sempre ci impegniamo a trovare nuovi modi per darti di più. Di come abbiamo portato un po' di noi nelle case degli italiani. Offrendo sempre il massimo della qualità, dell'accoglienza, e dell'innovazione. Perché dal 1958 sono cambiate davvero tante cose. Ma non i nostri valori. Pampanorama. 60 anni spesi al meglio.